Si amplia a Montesilvano il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta ed arrivano 5 nuove isole ecologiche. Ad ogni utente, oltre al kit dei cassonetti, verrà consegnato anche il calendario ed un piccolo manuale per il corretto conferimento del pattume. Il servizio di raccolta domiciliare verrà introdotto su via Vessina e su via Verrotti. Nei prossimi giorni, nelle aree interessate, saranno consegnati anche i mastelli domestici che sostituiranno gradualmente i bidoni stradali. E quella che vedete alle mie spalle è una delle 5 isole ecologiche impiantate nel comune di Montesilvano. Qui siamo per l'esattezza in piazza Trisi, isole ecologiche istituite dalla società, dall'associazione Formula Ambiente Sapi, per migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in città. Le altre 4 isole ecologiche, è stato detto ancora, sono state posizionate in piazza Giardino, adiacente il campo sportivo, in via Vessina, angolo via Verdi, in corso Umberto, via Idro, adiacente lo svincolo della circonvalazione a Santa Filomena, in via Verrotti, direzione sud-nord. E siamo in compagnia di Nicola della Corina, dell'associazione Sapi Formula Ambiente, dunque prosegue questa collaborazione con il comune di Montesilvano? Sì, l'amministrazione comunale ha rinnovato per altri 5 anni il servizio e noi siamo onorati di questa fiducia che l'amministrazione ci sta dando perché abbiamo in mente altre iniziative a partire dall'estensione del porta a porta progressivamente su tutto il territorio cittadino nei prossimi anni. Abbiamo visto come questo servizio abbia dato dei notevoli risultati, le percentuali sono schizzate per quanto riguarda la raccolta differenziata, soprattutto nel borgo. Sì, adesso su tutto il territorio cittadino siamo oltre il 30%, dove viene fatta la raccolta domiciliare siamo oltre il 65-66%. Della Corina, ricordiamola, anche per quanti non potessero raggiungere le isole per smaltire i rifiuti ingombranti, c'è anche la possibilità di prenotare il servizio telefonando proprio alla società. Il servizio a domicilio può essere fatto sia telefonicamente oppure sul sito web e chiedere il ritiro a domicilio in maniera gratuita degli ingombranti e degli sfalci di potatura. Grazie. Grazie. Grazie.